Ciao a tutti, sono Maddalena e sono la titolare del Maxenco DJ Atauro. Maxenco DJ Atauro ha cambiato look, si è trasferito in questa nuova location, una location molto accogliente, dai colori caldi e a tema proprio con questo attacco di nuova collezione. Maxenco DJ Atauro Il nostro staff, le ragazze, Marianna, Serena, Federica e Laura che ci hanno aiutato in questa avventura. Maxenco DJ Atauro Ti siete tantissimi a venirci a trovare, vedrete che il nuovo negozio vi stupirà, vedrete delle nuove cose, il nostro Maxenco DJ Atauro ha cambiato davvero look, ci siamo rinnovati, ci siamo rinnovati in tante cose. Spero, spero tanto che sarete in tanti.